Musica Benvenuti all'appuntamento con l'informazione regionale di Espera TV, siete sul canale 15, in apertura un'ottima notizia invece per la Calabria. E' Tauria Nova la capitale del libro 2024. Il disco verde è arrivato dal Consiglio dei Ministri che ha scelto il comune in provincia di Reggio Calabria. La proposta di Tauria Nova rappresenta un miglioramento dell'offerta culturale che si concretizza in un cambiamento significativo in quanto mira l'inclusione sociale con l'utilizzo delle nuove tecnologie al coinvolgimento di giovani e diffonde l'abitudine alla cultura. Vediamo. Il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della Cultura Gennaro San Giuliano ha deliberato di assegnare il titolo di Capitale Italiana del Libro per l'anno 2024 alla città di Tauria Nova, comune in provincia di Reggio Calabria. L'assegnazione avviene sulla base della unanime decisione della giuria poiché la proposta rappresenta un miglioramento dell'offerta culturale che si concretizza in un cambiamento significativo anche nel lungo periodo in quanto mira l'inclusione sociale con l'utilizzo delle nuove tecnologie e il coinvolgimento dei giovani e delle categorie a rischio di marginalizzazione diffondendo l'abitudine alla lettura e valorizzando l'immagine sociale del libro. In particolare, il progetto di Tauria Nova è risultato convincente anche in ragione del contesto storico e geografico in quanto può costituire un laboratorio di pedagogia, di riscatto culturale, civile e sociale, la soddisfazione del sindaco Roibiasi. Una gioia immensa e sono veramente tanti i ringraziamenti che dovrei fare in una giornata come questa. In primis alla Commissione indipendente presso il Ministero della Cultura che si espressa all'unanimità sul nostro progetto, poi chiaramente al Ministro San Giuliano che ha apprezzato e che ha condiviso questa decisione e naturalmente un ringraziamento voglio fare a tutta la mia squadra che ha partecipato in maniera massiccia alla realizzazione di quello di cui oggi cogliamo i frutti. In particolare un ringraziamento all'assessore Fedele per il suo spirito di abnegazione, per la sua costanza, per il suo coraggio, per il suo amore verso la cultura e verso i libri che ci hanno portato naturalmente ad arrivare a questo risultato importante. Ma anche un ringraziamento particolare alla nostra bibliotecaria Serafina Grillo che è stata anche lei un motore importante nella crescita culturale di questa città da quando è arrivata ma anche per stimolarci a fare sempre meglio. Quindi vorrei dire anche un grazie a tutta la Calabria che ci ha sostenuto. Devo dire che sono stati veramente tantissimi gli attestati di stima nel percorso che ci ha condotto verso questo traguardo. Quando eravamo nei primi cinque diciamo sono arrivati veramente tantissimi attestati di sostegno da parte delle amministrazioni, da parte delle associazioni, da parte insomma delle più svariate fasce sociali sostenendo Taurianova e vedendo in Taurianova questa possibilità di risorgimento attraverso la cultura dell'intera Calabria e non solo diciamo della città di Taurianova. L'autonomia differenziata, cambiamo argomento, porterà la sanità calabrese al collasso. Lo sostiene la Fondazione Gimbe che interviene sull'argomento. Il disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata approvato al Senato e ora in discussione alla Camera potrebbe segnare un punto di non ritorno nell'equità dell'assistenza sanitaria tra le regioni italiane. Lo sostiene la Fondazione Gimbe che ha pubblicato un report per esaminare le criticità del testo e analizzare il potenziale impatto sul servizio sanitario nazionale delle maggiori autonomie richieste dalle regioni in materia di tutela della salute. Le nostre analisi, dichiara il Presidente Nino Cartabellotta, documentano dal 2010 enormi divari in ambito sanitario tra il nord e il sud del paese e sollevano preoccupazioni riguardo all'equità di accesso alle cure, spiegando nel dettaglio che le prestazioni sanitarie che le regioni devono garantire gratuitamente o previo il pagamento del ticket, emerge che nelle prime dieci posizioni non c'è nessuna regione del sud. L'analisi della mobilità sanitaria conferma la forte capacità attrattiva delle regioni del nord e la fuga da quelle del centro-sud. Il mezzogiorno ha accumulato complessivamente un saldo negativo pari a 13,2 miliardi di euro, mentre sul podio per saldo attivo si trovano proprio le regioni che hanno già richiesto le maggiori autonomie, Emilia, Lombardia e Veneto. La maggiore autonomia in termini di contrattazione del personale provocherà anche una fuga dei professionisti sanitari verso le regioni che saranno in grado di offrire condizioni economiche più vantaggiose. Ecco perché, ha affermato il Presidente Cartabellotta, suona autolesionistica e grottesca la posizione favorevole all'autonomia differenziata dei Presidenti delle regioni meridionali governate dal centro-destra, dimostrando che gli accordi di coalizione partitica prevalgono sulla tutela della salute delle persone. Stiamo di fatto rinunciando alla più grande conquista sociale del Paese e a un pilastro della nostra democrazia. Il 21 marzo, ormai da anni, si celebra la memoria delle vittime delle mafie. Una memoria che non può assolutamente cadere nella retorica, ma una memoria che deve vederci tutti quanti attivare i processi di vero cambiamento rispetto sia alle conoscenze delle mafie, sia all'interpretazione dei poteri mafiosi e sia alla reazione della collettività alle mafie. E' quanto afferma il Vice Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Monsignor Francesco Savino, in occasione della giornata della memoria delle vittime di tutte le mafie. E' l'ora del coraggio, della profezia e del metterci insieme, aggiunge il presule, perché insieme possiamo farcela. Se invece, anche rispetto al motere mafioso, che è un potere invasivo e pervasivo, capace di alleanze al di sopra di ogni sospetto, noi non ci mettiamo insieme e rischiamo a prescindere di fare un regalo ai poteri mafiosi. Si indaga, parliamo di cronaca, su un caso di Lupara Bianca risalente al 2008 e che riguarda un cittadino romeno del Vibbonese, di cui allora si erano perse le tracce. La Procura della Repubblica di Vibbo, Valencia e i Carabinieri hanno avviato degli scavi in località Feudo d'Aquino, a cavallo tra i territori dei comuni di Zungri e Filandari. Le indagini sono coordinate dal procuratore capo Camillo Falvo e dal sostituto Eugenia Belmonte e mirano a scoprire il luogo esatto in cui sarebbe stata seppellita la vittima dopo essere stata uccisa da persone sulle quali sono in corso indagini. Ad operare sul terreno sono i capidieri del reparto investigativi scientifici che ricorreranno anche al supporto dei cani molecolari. L'uccisione dell'uomo, secondo il procuratore Falvo, sarebbe maturata in un contesto di rapporti privati. 12 anni dopo la presunta istigatrice della spedizione punitiva nei confronti di Davide Ferrero, si tratta del giovane che versa in gravissime condizioni dopo un pestaggio avvenuto a Crotone nell'estate del 2022. 12 anni di reclusione. E' questa la richiesta al tribunale fatta dal PM di Crotone Festa nei confronti della donna accusata di concorso anomalo nel tentato omicidio di Davide Ferrerio, il giovane di Bologna ridotto in fin di vita dopo un'aggressione subita giorno 11 agosto del 2022 nel centro di Crotone. Il PM ha chiesto anche la condanna a 4 anni ed 8 mesi per Andrea Gaiu, compagno della donna. Per l'aggressione è già stato condannato in primo grado con rito abbreviato a 20 anni di reclusione Niccolò Passalacqua, l'autore materiale. Davide Ferrerio è stato vittima di un'aggressione per uno scambio di persona nel corso di una spedizione punitiva che aveva come obiettivo un uomo che infastidiva sui social la figlia della donna. La ragazza è stata messa in prova dal tribunale dei minorenni di Catanzaro mentre per l'uomo Alessandro Curto che repistò il gruppo di Passalacqua inviando il messaggio alla giovane o una camicia bianca e che provocò l'equivoco all'origine dell'aggressione è stato chiesto il rinvio a giudizio. Nessuna attenuante si può concedere ad una donna che non ha mai chiesto scusa e che ha dimostrato di avere una spiccata pericolosità sociale ha detto il PM nella requisitoria. Di Gaiu ha rilevato una condotta che tradisce volontà lesive e diventa un modello che invita Niccolò a fare altrettanto per analogia di comportamento. Ritengo acclarata, ha concluso Festa, la responsabilità degli imputati per concorso anomalo intentato omicidio con l'aggravante dei motivi abbietti e futili. Non si possono concedere attenuanti per la donna che mente nelle sue dichiarazioni spontanee. La condanna degli imputati è stata chiesta anche dalle parti civili. La famiglia ha chiesto poi 1,8 milioni di risarcimento del danno mentre 100.000 euro sono stati chiesti per danno di immagine dai comuni di Crotone e Bologna e dalla provincia di Crotone. A guidare la Corte d'Appello di Catanzaro sarà Concettina Epifanio che fino ad oggi è stata Presidente del Tribunale di Palmi. La nomina è stata approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con 17 voti espressi a favore della sua nomina, soltanto uno in più rispetto alle preferenze andate all'altra candidata, Gabriella Reillo, giudice presso la Corte del Capoluogo Calabrese. A proposito di giustizia, dopo 8 anni di servizio lascia la procura di Cosenza Mario Spagnuolo. Mi dedicherò agli studi di diritto tributario perché è una materia che mi interessa molto. Fra l'altro continuerò a presiedere la Corte di giustizia tributaria qua a Cosenza, quindi non mi allontanerò molto dal mondo della giurisdizione. Continuerò a studiare, a leggere i miei libri e a fare la vita che tutto sommato facevo prima. A dirlo, il procuratore della Repubblica di Cosenza Mario Spagnuolo, parlando con i giornalisti, a margine del saluto di commiato in procura. Il procuratore lascia l'incarico per raggiunti limiti d'età. Alla cerimonia di saluto hanno partecipato autorità militari e civili, il sindaco Franz Caruso, la prefetta Vittoria Cioramella e il vescovo Giovanni Checchinato, rappresentanti della società civile, avvocati del Foro Cosentino e procuratori aggiunti, che hanno lavorato con Spagnuolo. Parlando di una serie di inchieste volte al contrasto dell'uso delle droghe, il procuratore ha ricordato come Cosenza sia l'unica realtà del distretto caratterizzata da una forte presenza di minorenni spacciatori. E questo è un fatto di una gravità sconvolgente. Tutte queste indagini non avevano lo scopo di contrastare un fenomeno, avevano lo scopo di accertare per determinati fatti una singola e specifica responsabilità. La magistratura, e chi dice il contrario non dice cos'è corretta, ma la magistratura non è in grado di risolvere il problema, il fenomeno dell'uso massivo delle sostanze stupefacenti. Altri lo devono fare, altri hanno dei compiti che hanno sostanzialmente disatteso. Noi abbiamo il compito e il dovere di accertare e affermare la responsabilità delle persone per i reati che commettono, ma che da questo si pensi che si risolve un problema sociale così grave ce ne corre tantissimo. Chi vi dice che sarà la magistratura penale a risolvere questo problema non dice cosa corretta. E poi un passaggio sul futuro del capoluogo Bruzio. Cosentia è una città che vive le contraddizioni di una città meridionale, che aspira ad essere qualcosa di più, ci riuscirà, non ci riuscirà, dipende tutto dai cosentini. In questo, ripeto, io ho una concezione estremamente marxista della funzione della struttura giudiziaria. La struttura giudiziaria è una sovrastruttura. Le regole che determinano il concreto funzionamento, la vita, i rapporti di potere in un gruppo sociale sono le regole della economia e le regole della socialità. La magistratura in tutto questo contesto è marginale. Deteneva illegalmente, ancora una notizia di cronica, in un ripiano del suo ristorante momentaneamente inattivo per la stagione invernale, una pistona clandestina. Un 44enne è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri a Roccella Ionica. I militari, durante una perquisizione all'interno del locale, gestito dall'uomo e ubicato nella zona del centro storico della cittadina, si sono accorti della presenza di un oggetto metallico sul ripiano dove era stata riposta della documentazione. L'oggetto in questione è risultato essere un'arma perfettamente funzionante, completa di serbatoie e munizioni, ma priva di segni distintivi e con la matricola punzonata. Spostiamoci alla cittadella regionale dove è stato presentato il dossier statistico sull'immigrazione relativo al 2023. Vediamo. Per quel che riguarda la regione Calabria, riflette la tendenza nazionale, cioè un incremento della popolazione straniera, in parte alimentata dalle nascite, in parte dai nuovi ingressi. Così Roberta Saladino, referente regionale del centro studi e ricerche IDOS di Roma, a margine della presentazione del dossier statistico sull'immigrazione per il 2023, presentato in cittadella regionale. La popolazione complessiva in Calabria segnala soltanto un saldo migratorio con l'estero positivo, mentre invece un saldo migratorio interno negativo. Questo vuol dire che sia la popolazione autoctona che la popolazione straniera va via. Va via direzione nord-est dell'Italia, perché il saldo migratorio interno negativo è un fenomeno che caratterizza tutte le regioni del sud Italia. Un altro aspetto interessante sono le nazionalità, confermate Romania, Marocco e Ucraina. Ucraina ormai risiede da circa tre anni sul podio. Per quel che riguarda il fenomeno della femminizzazione della popolazione straniera, tanto ne parlavamo dieci anni fa, oggi invece no, è sostanzialmente in equilibrio il genere. È una popolazione giovanissima, pensiamo che ha un'età media di 35 anni, quella autoctona invece 45 anni, ma nonostante questo effetto lifting della popolazione straniera sulla popolazione autoctona, non riesce a frenare l'invecchiamento demografico. Noi abbiamo nell'immediatezza, grazie all'indirizzo del Presidente Occhiuto e dell'assessore calabrese, sperimentato. Abbiamo dato vita ad un progetto pilota che abbiamo chiamato OICOS Casa, OICOS Calabria, che ha dato l'opportunità ad un gruppo significativo di migranti regolari presenti sul territorio di entrare in un percorso di formazione, di acquisire delle competenze, delle qualifiche spendibili, talmente spendibili che un numero anche importante delle persone che hanno partecipato a questi corsi sono state assunte. Tornano le scuole calabresi nella sede del Parlamento Europeo di Bruxelles a promuovere la visita presso le istituzioni comunitarie e l'eurodeputata del Movimento 5 Stelle Laura Ferrara con l'iniziativa La scuola entra in Parlamento. Gli studenti in visita provengono dall'Istituto Erodoto di Turi, dell'Istituto Pertini-Santoni di Crotone, dell'Istituto Tecnico Industriale Monaco di Cosenza. L'Europa è la nostra casa comune ed è prioritario poterla percepire per ciò che rappresenta. Con le ragazze e i ragazzi che ho accolto chiudo questo ciclo iniziato con il mio primo mandato. Mi auguro, concludo, conclude che l'esperienza vissuta qui li possa aiutare ad esprimere con maggiore consapevolezza e senso di responsabilità la propria preferenza. Anche l'Università Magna Grecia di Catanzaro ha aderito alla prima giornata mondiale delle università. Vediamo. Con il convegno dalle origini al futuro della Magna Grecia l'Università di Catanzaro ha concluso il programma di eventi organizzati in occasione della prima giornata nazionale delle università su invito della conferenza dei rettori italiani. L'iniziativa Università Svelate, iniziate con appuntamenti nell'area delle bioscienze, nel Dipartimento giuridico e con visita ai laboratori, ha rappresentato un'importante occasione per celebrare il sapere e l'attività di ricerca dell'Ateneo Catanzarese. L'università è un motore culturale, è un motore che racchiude in sé tanti valori aggiunti, è un motore economico perché genera un indotto ma è soprattutto il posto in cui le nuove generazioni si formano. Quindi noi abbiamo il dovere di fornire il meglio della qualità nell'offerta formativa ai nostri giovani studenti in maniera tale da dare loro la possibilità di essere sereni nell'affrontare le scelte, sapendo che hanno ritrovato qui a Catanzaro nel campus di Germaneto dell'Università Magna Grecia tutto quello che a loro serve per il proprio futuro. Il confronto tra esperti e docenti nel convegno conclusivo ha consentito di fare un escorso storico e culturale sulla Magna Grecia con lo sguardo rivolto alle possibili nuove strategie di sviluppo per l'Università di Catanzaro. Mi sembrava bello poter raccontare in questo contesto che è anche un contesto celebrativo dell'Università di come fisicamente l'Università si trovi ad essere localizzata e collocata in un territorio particolarmente ricco con le testimonianze brettie di Tiriolo le testimonianze romane di Scolacium la Catanzaro medievale, gli insediamenti greci sparsi nel territorio lungo la Valle del Coraceo e quindi l'Università si trova in un posto che ha veramente un cuore antico ma anche una responsabilità grande quella di proiettarsi nel futuro nel migliorare dei modi e allora credo che in una dimensione istimica quindi di ricucitura di un territorio che poi nel corso del tempo ha trovato degli allontanamenti credo che l'Università al di sopra di tutto al di sopra di tutte le parti possa veramente svolgere questo ruolo di coesione di raccordo territoriale e di far nuovamente respirare all'unisono questo istimo perché la mia paura è che se si cade troppo nel localismo poi si rischia di perdere molto se non di perdere tutto forse è la prima volta che l'Università si apre così apertamente al territorio che cosa significa però apertura al territorio e che cosa debba significare che l'Università Magna Grecia si apra al territorio perché poi bisogna calarla anche nella nostra realtà il passo è breve un tempo l'Università era il luogo dei dotti il luogo di un linguaggio che doveva segnare anche attraverso le sue procedure le sue forme una differenza poi è diventata formazione poi negli ultimi tempi l'Università è stata tributaria di un ruolo ancora più penetrante cioè quella di attribuire professionalità e professionalizzazione qui forse è un po' il momento nel quale siamo chiamati un po' tutti un progetto davvero innovativo finanziato dall'amministrazione comunale di Reggio Calabria attraverso i fondi Rec Pond Metro stiamo parlando del Giardino delle Speridi a Pellaro sono iniziati il lavoro del parco che celebrerà il bergamotto sono partiti i lavori di realizzazione del Giardino delle Speridi a San Giovanni di Pellaro il sindaco Giuseppe Falcomatà insieme ai consiglieri comunali Massimiliano Merenda e Giovanni Latella ha fatto visita al cantiere dove un bergamotteto di proprietà dell'ente pubblico diventerà una distesa verde in cui studiare, conoscere, approfondire o semplicemente apprezzare i colori ma soprattutto i profumi di una vasta gamma di alberi d'agrume oltre alla specie di bergamotto già esistenti infatti verranno messe a dimora una moltitudine di varietà di mandarino, chinotto e arancio, limone, lime tra una fitta sequenza di siepi e piante ornamentali in questi giorni si sta discutendo molto del bergamotto si sta discutendo molto delle tutele da dare al bergamotto marchio IGP, marchio DOP in questa fase l'amministrazione comunale invece continua il suo percorso di valorizzazione del bergamotto di Reggio Calabria realizzando un bergamotteto qui nella zona di San Giovanni di Pellaro e realizzando anche il cosiddetto Giardino delle Speridi un agrumeto con diverse tipologie di agrumi e anche un percorso didattico per comprenderne le diversità nella piena convinzione e consapevolezza che la diversità sia sempre fonte di ricchezza queste strutture invece poi in una seconda fase di realizzazione del progetto invece ospiteranno un punto diciamo culturale dove si racconterà la storia del bergamotto e degli agrumi di Reggio Calabria quindi ci sarà una parte didattica e poi naturalmente un punto ristoro un progetto finanziato dal REACT-EU in collaborazione ovviamente col settore ambiente in quest'area in poche parole verrà creato un campo scuola in collaborazione anche con l'università mediterranea con la quale il comune ha una convenzione dove le scuole insomma verranno a visitare un parco diciamo vero e proprio con dei percorsi dove potranno conoscere tutte le specie autoctone degli agrumi diciamo delle nostre zone Sport calcio perché c'è un nuovo colpo di scena in casa Crotone Baldini presenta le proprie dimissioni dopo la quarta sconfitta in cinque gare la società richiama Zauli per provare a salvare la stagione e giocarsi un posto utile nei playoff i dettagli in questo servizio di Luigi Saporito Ancora un ribaltone in casa Crotone l'ennesimo di questa stagione Silvio Baldini al termine del primo allenamento della settimana dopo la sconfitta col Monterosi in vista del match casalingo contro la Casertana ha rassegnato le dimissioni lasciando Crotone immediatamente una decisione che era nell'aria dopo aver ascoltato le parole di Baldini a caldo dopo il Cappo di Teramo domenica sera non voglio essere io il problema aveva detto il tecnico toscano ecco perché in molti si aspettavano il suo disimpegno nel giro di poche ore che però non c'è stato anzi dopo due giorni di riposo la squadra si è presentata agli allenamenti e con loro anche Baldini il tutto però si è complicato nella serata di mercoledì e Baldini dopo essersi confrontato con la squadra ha ritenuto opportuno levare il disturbo e tornare in Toscana sulla panchina di Erosu Blu torna Lamberto Zauli non confermato dopo l'eliminazione dei playoff la scorsa stagione salvato dai calciatori il 17 ottobre dopo l'esonero reintegrato dal presidente Frenna e sollevato nuovamente lo scorso 19 febbraio dall'ora ad oggi l'interregno di Baldini fatto di cinque gare con una sola vittoria a Messina e quattro sconfitte ora Zauli avrà il difficile compito di accompagnare la squadra alla disputa dei playoff ma il clima in città non è dei migliori con una tifoseria tutt'altro che contenta per come è stata gestita questa stagione sui social si registrano l'amarezza e la delusione di una tifoseria intera di una città per come si sta concludendo questo campionato con una squadra che a sei giornate dalla fine della regular season deve gestire la settima posizione in classifica utile per disputare i playoff non certo la più comoda E' il momento del meteo Ben trovati da Nico Schiodetto previsioni per la giornata di venerdì quando ritroveremo un rapido fronte in transito sui Balcani lambira anche le regioni del sud con delle piogge tornerà all'alta pressione ma poi sabato seconda parte di sabato questo fronte sulla Francia e sulla Germania raggiungerà il centro nord Italia con piogge temporali e neve sull'arco alpino perché sarà seguito da aria più fredda artico marittima dal mare del nord in sintesi la giornata di bel tempo via via al centro nord mentre delle rapide piogge sono attese al sud anche sulla Sicilia migliora qui in serata poi sabato sera quel fronte sulla Francia raggiungerà il centro nord nuovamente dicevamo sole al centro nord qualche improvviso piovasco al sud le temperature comunque primaverili al nord ovest fino a 22-23 gradi come a Milano e a Torino maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo le nostre dirette proseguono con Smart Sport il contenitore sportivo giornaviello che è condotto dal nostro Luigi Saporito oggi le ultime di casa a Crotone con le dimissioni del tecnico Silvio Baldini e il richiamo di Labberto Zauli per aggiornamento sulle notizie invece l'appuntamento alle prossime edizioni arrivederci grazie a tutti